tada non ero sparita sono tornata a tra poco dopo la sigla bentornati a tutti amici e amiche benvenuti o bentornati nel mio canale profumi valocchi io sono antonella ero sparita quasi per un mese l'ultimo video risaliva a pochi giorni prima di halloween dove vi descrivevo a sommi capi così come si sarebbe svolta no non avevo spiegato come si sarebbe svolto niente vi parlavo dei profumi dedicati ad halloween e vi parlavo del profumo che ho utilizzato io alla fine a questa bellissima festa in maschera ho usato l'incenso di montale e io mi sono vestita da vampira poi avevo fatto anche un piccolo video dove si vede un piccolo pezzo della festa però c'era musica tutto volume io ero seduta perché avevo i tacchi avevo i piedi distrutti e allora ne ho approfittato per fare questo video piccolissimo però non si vede un gran che comunque per farla così stretta stretta la serata è stata bellissima suonava questa band di corsico la cantante una mia cara amica si chiama lucy e fanno rock ballabilissimo infatti abbiamo ballato tutta la sera poi quando loro hanno smesso di cantare c'è stata la musica da discoteca degli anni 70 che è la mia preferita perché comunque io anni 70 e andavo in discoteca negli anni 80 a ballare la musica disco degli anni 70 e anche degli anni 80 e poi anche degli anni 90 ma qui è un altro discorso che non mi non mi ci intrometto altrimenti esce un ginepraio che non finisce più comunque sono tornata dopo quasi un mese perché ho avuto tante cose da fare problemi di salute perché ho avuto un'influenza abbastanza antipatica che mi è passata proprio la settimana scorsa diciamo che gli ultimi strascichi li ho avuti la settimana scorsa mi aveva preso tanto il naso comunque adesso sto bene mi è passato tutto poi ho avuto delle visite da fare mie per i miei soliti le mie solite visite annuali e dovrò farne altre però si parla dell'anno prossimo poi sono stata ospite da mia suocera a milano per qualche giorno e insomma ho avuto un po di cose e finalmente mi sono presa questa mezz'oretta per fare un video su due nuovi acquisti ovviamente allora gli acquisti in realtà sono di più però però aspetto perché siamo in dirittura d'arrivo è io martedì compierò 57 anni e quindi vi parlerò dei profumi per il mio compleanno dopo il mio compleanno ovviamente o lo stesso giorno non lo so dipende se avrò tempo poi in questi giorni ho messo posto la casa oggi per esempio ho ribaltato tutto l'armadio perché io sono disordinatissima gli armadi che sono veramente se cerchi una cosa ho paura di essere morsa da qualcosa che è lì quindi ho avuto oggi finalmente il tempo di fare questo video per parlarvi di due nuovi profumi di mansera che sta diventando il mio brand uno dei miei brand preferiti perché veramente io quando leggo le note di mansera quando ne sento uno quando lo vedo mi si illuminano così gli occhi no non sono truccata non volevo far vedere niente solo che ho una luce pessima come sempre oggi c'è il sole e ho messo le tende un po si sembra un po' un cadaverino perché non sono truccata però almeno si intravede qualcosa comunque mansera cosa dire di questi mansera io li adoro li amo e poi li prendo quando ci sono le offerte cioè io qui vicino non ho profumerie che li vendono fisiche quindi se trovo delle offerte su makeup.it io li compro o lì o da neos e in questi giorni un po' per il black friday un po' per non so cosa si avvicina anche il natale quindi sai ho trovato queste due chicchelle che ho comprato al buio perché ero sicura che mi piacessero infatti mi piacciono da morire allora parliamo della prima perché mi sto un po' dilunguando come sempre però era tanto che non parlavo con voi avevo voglia un po' di di cicciarare come si dice dalle mie parti allora il primo favoloso allora vi faccio vedere anche la scatola perché a me piace mostrare tutto piace mostrare tutto è wood orchid quindi un'orchidea all'ood le scatole come sempre io le adoro perché hanno questa zigrinatura che sembra un po' pitonata eccola qua bellissime a me veramente i pack quando sono fatti bene mi mi piacciono il loro astuccino chiamiamolo così in questo caso è un rosa rosa viola un lilla con questa gommina diciamo così metallizzata che mi piace troppo è un profumo da 60 millilitri e ho trovato ha un'offerta convenientissima quindi ho detto deve essere mio poi avevo letto le note insomma eccolo qua eccolo qua poi i mansera hanno veramente una durata talmente potente che comprare il 100 ml secondo me è sprecato perché questo mi durerà tipo 20 anni allora andiamo a leggere le note di questo wood orchid di mansera allora perché l'ho preso? perché mi ha incuriosito appunto non ho incuriosito le note chiaramente allora gli accordi principali vengono descritti come un dolce vanigliato legnoso talcato cocco floreale lattonico muschiato fruttato ambrato il cocco consapete non mi piace però in certi profumi invece mi sono resa conto che quella nota di cocco piccola miscelata bene in certi punti strategici del profumo mi piace tanto quindi non lo escludo più non comprerei mai un profumo al cocco o cocco e vaniglia perché anche no però in questo caso il cocco lo sento e devo dire che non mi ha dato fastidio allora wood orchid di mancera è una fragranza del gruppo ambrato floreale unisex però io mi dispiace ma lo trovo assolutamente femminile io di assolutamente non trovo nulla di maschile in questa fragranza è da donna è una fragranza femminile secondo il mio punto di vista allora cosa ci dice il naso di questa fragranza che è stata lanciata sul mercato nel 2016 indovinate chi è? è Pier Montale perché comunque Mancera fa sempre parte della casa Montal o Montale io dico Montale anche se non è corretto però Montale secondo me è un nome italiano come Mancera come Mancera però allora le note in testa sono cocco, pesca e mandarino il cocco che si sente tant'anto da tanto in questo caso come vi dicevo non mi dà fastidio come in altre fragranze il mandarino se devo essere sincera non lo sento per niente però sento tanto tanto la pesca che è una nota fruttata che nei fragranze invece mi piace tanto dove c'è la pesca o l'albicocca o la ciliegia o la prugna la prugna poi vabbè ecco quindi questa apertura di cocco e pesca e voi direte è un profumo estivo? no non è un profumo estivo si può usare volendo anche in estate come sapete vi ho detto che io ormai non stagionalizzo più le fragranze allora seguendo le note e attendendo appunto che il profumo si evolvi troviamo nel cuore l'orchidea il paciuli il paciuli lo si sente effettivamente arrivare passo passo lentamente dopo un po' anzi me lo spruzzo me lo spruzzo non trovo il buco aiuto qui e così ve ne parlo meglio nelle note di base troviamo note legnose vaniglia muschio bianco e ambra allora facciamolo assestare come dico io anche se c'è il termine preciso da profumiere magari non mi viene ecco allora mi piace un'altra cosa di questa fragranza anche se non è citata nelle note che lo sento licuoroso leggermente licuoroso è buono è un'orchidea molto fine raffinata profumo elegantissimo io ripeto da signora io sono un uomo questo profumo a questa punta di piccantino come se ci fosse del pepe il pepe non è indicato che va a smorzare la dolcezza della vaniglia della pesca del cocco anzi va proprio a equilibrare tutto è buonissimo ragazzi ah questa nota talcata sul fondo veramente va approvato e io non lo so Mancera fa dei profumi che sono per me unici unicissimi non ho mai sentito un profumo così il muschio bianco non lo percepisco sinceramente è un profumo ambrato chiaramente ecco però questa puntina di piccantino che non so da dove arrivi è buono veramente buono è straconsigliato vediamo se qualche ragazza o ragazzo lo ha abbinato a qualcosa che gli assomiglia sì ma non so cosa siano c'è qualcosa di arabo c'è un avon far away quello rosso che non ho mai sentito ha qualche altro Mancera sì ricorda effettivamente c'è proprio il timbro di Mancera perché anche sia nella vaniglia nera che nella scusate Roses Vanille c'è questo 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 marchio tipicamente sontuoso sono profumi setosi molto vellutati ecco così riesco a esprimermi un po' meglio questo è veramente buono non è una dolcezza stucchevole non infastidisce nonostante la vaniglia si fa sentire tanto però non è assolutamente un gourmand non è assolutamente un profumo fastidioso io lo consiglio a una donna su di un uomo sì mamma mia quanto è buono 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 come buono è anche il secondo il secondo Mancera sempre stesso discorso acquistato sempre su makeup.it mi trovo molto bene perché sono veloci sono onesti mandano sempre dei campioncini sono anche ben accurati nella chiusa del pacco insomma sono tracciabili insomma mi trovo molto bene con questo sito sto comprando un pochino meno da notino perché ho sentito voci che mi hanno un po' allarmata però non dico niente perché io non posso permettermi di dire nulla comunque notino ultimamente fine del discorso allora il secondo Mancera che mi ha incuriosito anche perché sono stata influenzata tanto da ragazze che ho nei miei gruppi che si chiamano appunto 1 profumi e balocchi dove si parla dei profumi e il secondo si chiama scambi e vendite profumi e balocchi abbiamo cambiato tutte anche qui avete visto che ho cambiato tutto l'immagine non mi viene la parola perché sono un po' deslessica in questi giorni e abbiamo cambiato un po' le foto di copertina come questa allora questa tra l'altro l'ha fatta Riccardo il mio fidanzato volevo cambiare un po' ho trovato l'immagine di questa ragazza nella bottiglia di champagne e ho detto che bella la vorrei proprio da utilizzare perché una donna così ricordante un po' le ballerine di burlesque ricorda un po' anche Marilyn mi piacerebbe però trovare dei profumi e metterli intorno faccio penso io allora lui si è messo lì tutto un pomeriggio e mi ha fatto questa bellissima immagine comunque ringrazio anche Ricky che ha perso tempo per me allora il secondo che ultimamente sento parlare della ciliegia in tutte le sue forme ragazze amiche amici io voglio un profumo alla ciliegia consigliatemi un profumo alla ciliegia io sinceramente la ciliegia ce l'ho in una fragranza che amo follemente che è questa che è anzi non è questa non so dov'è da qualche parte qua sotto che è lo scandal by night che è una bomba di tuberosa fruttata super sensuale super sexy con una persistenza illimitata una scia chilometrica ed è un profumo proprio da donna un po' così un po' da mamp però altri profumi con la ciliegia protagonista no non ne avevo anche perché scandal by night non è la ciliegia protagonista la protagonista è la tuberosa circondata da queste note dolcissime quasi stucchevoli che però a me piacciono assai assai allora ho visto che c'era sempre questa offerta sempre su makeup.it di questo wild cherry ho detto per il prezzo che ha poi è un mancera c'era anche in offerta un altro profumo che dovrebbe essere un dupe di questo di questo mancera che costava la stessa cifra però ho detto insomma dupe è l'originale prendo l'originale giustamente che è questo wild cherry la scatola è sempre stupendamente decorata con queste questi trattini che mi piace un sacco mi piacerebbe avere un'altra pizzeria in casa così dorata molto così molto sobria no tipo savastano style dorato in tutte le sue forme perché anche il suo astuccino è di questa finta pelle dorata metallizzata bellissimo poi io quando me li porto in giro mi chiedono generalmente che profumo che buono che è mi piace far vedere il così il profumo allora qui abbiamo la boccetta che è stupenda perché è tutta panterata no tutta animalie bellissima questa mi piacerebbe sporla però è trasparente quindi io i profumi li tengo in scatolati per evitare che prendano luce e calore insomma sono più protetti se li tenete fuori dalla scatola non fatelo o teneteli al buio al limite allora questo è ancora il vecchio tappo a vite questo profumo mi ha incantata ecco qui sento adesso si sta assistando elegantissima orchidea all'oud super raffinato da sera adesso che si è fermato un attimino lo so che c'è un termine ma non mi viene oggi non mi viene sta parola allora da questa parte mi spruzzo questo stupendo qui uno spruzzo basta per tutto il giorno quindi anche in questo caso ho preso il 60 millilitri qui è esploso in una cosa fantastica allora amarena fabbri sciroppata da mettere sul gelato io sono anni che non mangio la amarena fabbri da bambina e la mia sorellina mariella ciao amore mio converrà con me che avevamo ancora a casa dei nostri genitori che purtroppo non ci sono più questo boccione di che era bianco con dei disegni blu mi sembra con dentro questo sciroppo con le amarene ed era una cosa meravigliosa da mettere ovunque torte panini nel gelato nel liquore ecco ma quanto è buono questo è un altro profumo bomba veramente bombissima questo è dolce questo è proprio dolce stradolce che più dolce non si può allora wild cherry di mancera accordi principali ciliegia guarda caso io ho il cellulare acceso che mi fa questo optical tremendo perché però devo leggere e non posso spenderlo quindi portate pazienza 5 minuti allora la ciliesia talcato vanigliato dolce iris agrumato mandorlato paciuli muschiato terroso allora questo wall cherry di mancera è una fragranza del gruppo aromatico fruttato unisex anche in questo caso devo dire che secondo me su un uomo non c'è azzecca niente per me è proprio un profumo da donna da donna un po' sexy un po' anche dai 25 anni in su perché su una ragazzina lo troverai volgare estremamente volgare un po' pacchiano invece su una ragazza vabbè 25 anni in su ci sta ci sta perché è molto sensuale molto sexy molto così no acchiappante allora questa wall cherry è stata lanciata sul mercato nel 2016 e indovinate chi è il naso di questa fragranza sempre lui il nostro amico Pierre Pierre Montale bravo Montale perché fa queste fragranze proprio buone devo dire che cavoli io da quando l'ho scoperto non ne posso fare a meno più no allora continuando con le mie scemenze nelle note di testa ecco le cose che ci interessa sapere la ciccia la ciccia del profumo ciliegie bergamotto limone allora ciliegie sì il bergamotto e il limone sì inizio a sentirli perché gli tolgono smorzano quella botta stradolce dello sciroppo marina fabbri che parte in bomba proprio inizialmente uno dice no e invece sì perché è proprio ben architettato ben orchestrato e quindi in testa troviamo la ciliegia e gli agrumi nel cuore ci sono l'iris l'eliotropio il faciulio il gessonino allora le note floreali mi raggiungono dopo un po' e anche queste sono ben architettate perché aiutano a far star calma a sedare un po' la ciliegia sto dicendo delle cose che mi fanno morire da ridere però oggi sono così è andato un sedativo la ciliegia come dire sta calma perché si è troppo agitata ecco immaginatevi una clinica con della frutta e dei fiori mentre i fiori stanno dando un sedativo a questa ciliegia esagitata che oggi sono così prendetemi così perché sono contenta perché ho avuto delle belle notizie perché mia sorella è guarita insomma vabbè e questi il gessomino il liotropio i risi e i paciuli sono i medici che hanno dato il sedativo a questa ciliegia nelle note di base troviamo la vaniglia del Madagascar e il Muschio Bianco che anche questi la vaniglia è proprio una bella vaniglia da budino pur non essendo assolutamente un gourmand questo non è un gourmand anche se volendo effettivamente insomma il gelato alla vaniglia con una bella marina Fabri sopra è un bel gelato con la marina sì quindi sì volendo si può considerare un gourmand non è considerato un gourmand è un aromatico fruttato però è dolce dolcissimo quindi dovete amare i dolci le sostanze così di fragranze dolci allora dopo aver sparato queste cavolate che mi sono divertita ho riso da sola per un po' andiamo a vedere andiamo a vedere anche qui se viene abbinato a qualcos'altro sì viene ecco viene abbinato a tutta la serie che io non ho mai sentito in vita mia mai sentirò le Petit Org Noir di Garnier al mio odiato Lolita Lempicca quello nella mela che l'ho avuto ma l'ho venduto dopo due giorni perché questa liquirizia non la sopporto però per me non gli assomiglia per niente io i Petit Org Noir non li ho mai sentiti ricorda anche una fragranza ce ne sono tante ce ne sono tante ce ne sono fin troppe una fragranza di Montal una fragranza di Tom Ford che è Lost Cherry una Laia e un profumo di se non sbaglio Lancome che è La Nuit Tresor mai sentito qui leggo mandorle ciliegia dolce frutta secca rosa no stranamente questo che ha tanta ciliegia mi piace però quando c'è troppa frutta il profumo macedonia non mi piacciono è veramente veramente buono anche perché adesso che si sta riposando non mi viene la parola c'è un termine preciso ma non mi viene oggi una volta lo utilizzo oggi non mi ricordo mi viene assestato ma non è quella comunque adesso che si sta puntini quella cosa lì è una bellissima ciliegia vanigliata però non è stucchevole perché è dolcissimo stradolce è un profumo allegro gioioso trasmette gioia di vivere trasmette allegria da usare a una festa non so per andare a ballare così scatenarsi e invece da questa parte questa orchidea super promossa le promuovo tutte e due sono due profumi veramente favolosi favolosi e li ho presi perché c'erano queste super offerte su make up punto it che ci sono ancora io non so voi se avete la fortuna di avere delle profumerie di nicchia vicino a voi io no perché abito in un paesino sperduto nei boschi e quando vado a Milano generalmente almeno non mi è capitato di recente di andare in centro ma ci andrò di solito io tutti gli anni prima di Natale un giro vicino a piazza Duomo di Milano lo faccio come lo faccio anche a Vigevano dove c'è la piazza Ducale mi piace vedere la mia piazza Ducale illuminata anche se ultimamente Vigevano è un po' è un po' morta come cittadina niente locali i negozi che chiudono continuamente mi viene un po' di tristezza quando ci vado però insomma c'è la mia sorella c'è insomma la mia vita precedente è lì comunque una vita che non rinnego che ho amato tanto però ogni tanto ci torno anche se non ci sono più i miei genitori così ogni tanto ci vado allora questi sono i due bellissimi bellissimi profumi di mansera che vi ho descritto un po' così follemente quindi wood orchid è questo e invece wild cherry questo li trovate adesso non so che prezzi abbia makeup.it andate a vedere perché aveva delle offerte veramente da non lasciarsi scappare quindi questo è il mio video di oggi ho in programma di fare altri video perché ho altre novità e poi vabbè appunto arriva il mio compleanno e devono arrivarmi delle cousine e poi vi devo parlare in futuro di una cosa stratosferica perché ho fatto amicizia con un fantastico naso molto famoso è una persona deliziosa non faccio il suo nome adesso perché vi voglio incuriosire persona deliziosa super disponibile ho già avuto dei suoi campioni di questi profumi leggendari perché sono veramente leggendari quando tu nomini o quando nomini resti lì allora io ho avuto la faccia di toglia di scrivergli e lui è stato stradisponibile e mi ha fatto provare un po' di fragranze e presto almeno per Natale una me la voglio assolutamente regalare e vi parlerò di lui di lui a breve comunque a breve perché voglio avere poi sono ancora studiando tutti i suoi decant che mi ha mandato e devo studiarmi bene per parlarne perché lui è lassù e voglio parlarne bene non fare brutta figura quindi tu che magari mi stai seguendo non ti sto ignorando ma aspetto perché devo studiarmi bene poi appunto avendo avuto il raffreddore non sentivo bene gli odori adesso sento tutto perfettamente tranne l'orecchio perché questo orecchio ormai ho perso tantissimo l'udito da questa parte però per sentire i profumi fortunatamente non servono le orecchie ecco l'altra scemata del giorno per oggi sono così un po' euforica ecco euforica non mi veniva una parola e praticamente il video è finito qua nelle mie stupidate e devo parlarvi di altre cose ma ne parlerò un altro giorno perché adesso mi stava venendo in mente stavo per citarvi un'altra fragranza che però non c'entra niente con queste due quindi dovete avere la pazienza di seguirmi anche se manco per un mese non scompaio io torno sempre quindi spero che il video folle vi sia piaciuto così com'è vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo video che non sarà di oggi perché oggi devo fare anche un po' di ordine nella testa oltre che che in casa l'ho fatto l'ho fatto sono mancata da casa una settimana e quindi giustamente ho dato precedenza alla casa quindi vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo video stringendo vi do un bacio siamo a metà settimana resistete che fra qualche giorno arriva il weekend quindi oggi giornata soleggiata spero che da voi sia tutto a posto aspetto commenti anche di insulti qua sotto perché magari non si è capito niente di quello che ho detto ma va bene così quindi non sto usando il mouse perché è distrutto è rotto non si accende più sto usando il ditino non ve ne frega niente lo so però quando mi muore il mouse si è acceso no si è tornato oh mi avete portato fortuna è tornato a funzionare il mouse va bene detto questa notizia super famosa la diranno anche il telegiornale stasera con queste mie deliranti saluti vi bacio e vi saluto ciao out ciao Grazie a tutti.